Ottimavamo qualche punto di più, pur consapevoli evidentemente che la vera partita per noi sarebbe stata il ballottaggio. La partita oggi è aperta, anche se sicuramente questa prima fase si è conclusa con un risultato di una differenza importante che io non vado sicuramente a sottovalutare. Adesso quel che conta è il messaggio che diamo nei prossimi 10-12 giorni agli elettori, ai cittadini e con questo intendo la prospettiva che indichiamo per la città. Per quel che mi riguarda vale la pena di continuare a indicare la prospettiva di una città che accetta la sfida del cambiamento, di una città che ridà fiducia a chi l'ha governata in anni difficili con trasparenza, correttezza e impegno per smuovere l'immobilismo. Una delle cose che tra le altre cose mi rende comunque fiducioso per il secondo turno è che il minimo comune denominatore di 10 candidati su 11 era marcare fortemente le distanze da chi ha amministrato la città, quindi attaccare l'amministrazione comunale. Magari non avendone i motivi perché in qualche caso si era in condiviso la quasi totalità delle scelte, mi riferisco alle due liste di sinistra che credo abbiano fatto male facendo questo tipo di campagna senza peraltro guadagnarne un dividendo particolarmente significativo. Quindi anche molti di quelli che in qualche modo per accreditarsi agli occhi degli elettori hanno attaccato l'amministrazione, hanno attaccato il sottoscritto, hanno captato voti che oggi sono voti liberi però di decidere se ritornare a Di Piazza con Roberti, con Tuia, con Camber e così via dicendo o ridare fiducia a noi. Grazie.